Si tiene anche quest'anno la tradizionale sagra di Sant'Antonio Abate a Orezzo che si terrà appunto il 16 e 17 gennaio, quindi giovedì e venerdì prossimi. Il programma, come negli ultimi anni a questa parte, prevede appunto che giovedì 16 gennaio alla sera alle ore 20 e 30 si terranno i fuochi d'artificio presso il campo sportivo dell'oratorio, quindi dietro la chiesa. Mentre alle 21 e 15, una volta ultimati i fuochi, si terrà appunto la solita preparazione di piatti tipici, vin brulé, tè caldo, insomma bevande calde, attorno al fuoco e al farò di Sant'Antonio, sempre al campo sportivo dell'oratorio e poi a seguire ci intratterranno gli aghi di Pino con la loro musica tradizionale e canti popolari bergamaschi. Il giorno successivo invece, il 17 gennaio venerdì, alle ore 10 la Santa Messa tradizionale con la successiva benedizione delle auto fuori dalla chiesa e poi alle 14 e 30 invece ci sarà la benedizione delle sale in chiesa con un breve rito e poi l'incanto dei prodotti locali e dei prodotti agricoli e degli attreffi della terra, insomma che si usano per la lavorazione della terra come da tradizione, insomma dal 1919 avviene appunto a Orezzo. Per concludere, il 19 gennaio rimane appunto in programma alle ore 16 presso la chiesa il concerto della banda cittadina di Gavvaniga per appunto la chiusura un po' della sagra.